Musica What's up guys? Wow, it's beautiful Bene, ora finisco di parlare inglese anche perché non so parlare inglese Perciò ciao ragazzi, come state? Io spero molto bene Guardate come suono bello oggi Ormai mi è preso questo trick di fare i video da truccato Scusate i letti dietro, lo so, fanno un po' caccare Ma non abbiamo sempre questa voglia di metterli a posto Così forse è meglio senza sacchetto giallo? Credo di sì, non lo so Allora io lì ho quel faretto lì Ti prego Spero che non mi abbandoni in pieno video Così riesco a parlarvi tranquillamente di tutto Anche perché in questa stanza la luce è una merda Detto ciò andiamo avanti Oggi vi parlerò della mia adorata esperienza Dei surface Di questi adorati piercing Quindi questi qua Uno e due Eccoli qua Bellissimi, bellissimi, bellissimi Questi in fila invece sono 3 dermal Quindi sono da 3, da 4 e da 5 Mentre questi qui sono surface con le palline da 4 se non erro Innanzitutto dove li ho fatti? Qua chi va so dove abito io Ovviamente grazie, un applauso Ma da una bravissima piercer Adorabile, fantastica Perché veramente sa metterti a proprio agio Quando sei lì disteso nel suo lettino Sulle pene della morte praticamente Perché si sa veramente metterti a suo agio Poi bravissima Cioè la vedete proprio Se la conoscete Vedete proprio che è proprio simpatica Dolcissima E si chiama Neki Allo studio qua No no, oddio scusate Ho detto una cazzata Non ha lo studio qua chivasso Ma lavora in uno studio qua chivasso So che è in collaborazione con molti piercer Ma prende appuntamenti su whatsapp Quindi se volete magari seguitela su instagram Così almeno potete contattare direttamente lei Se siete ovviamente in zona Cioè inutile che li iscrivete Se magari abitate a Genova Con la speranza che vada a fare qualche collaborazione In qualche studio a Genova Perché ne è dubito Però insomma O anche se magari siete interessati Ai suoi lavori Vedere un po' come lavora Seguitela appunto tranquillamente su instagram Non penso che li dia fastidio Anzi gli ho scritto su whatsapp Apposta per avere l'approvazione Di poter parlare di lei Perché ormai Sono così Tipo su youtube Non so mai cosa posso dire Cosa non posso dire Quindi le ho chiesto Ha detto che andava benissimo E quindi sono qui a parlare di lei Andiamo avanti La mia esperienza Dolore Facciamo così Iniziamo Prima con la mia esperienza Poi vi do un consiglio Su questo piercing Così a me lo sapete Caso non dovesse andare da Neki Perché magari è troppo lontano Magari Non vi sei simpatica Cos'è impossibile A me lo sapete A chi affidarvi Quindi fatevi sempre raccontare Come viene fatto questo piercing Ma prima parliamo della mia esperienza Dolore Da 1 a 10 io darei Un 8 Un 8 Perché Non fa tanto male Quando ti buca Perché qua ci sono due fasi Di questo piercing Anzi Forse è meglio se vi spiego Prima come viene fatto Correttamente Questo piercing Essendo che ci sono Due tipologie Di fare questo piercing E una ovviamente La migliore dell'altra Che è quella Che è stata fatta a me Che è quella che vi rende Il surface un po' più affidabile Essendo che comunque I surface Come i piercing Come anche i dermal Sono molto a rischio Di rigetto Ci sono varie tecniche Che col tempo ovviamente Sono andati a studiare Quindi che fanno aderire Meglio il piercing Alla pelle Evitando di far fare rigetto Quindi qual è questo metodo Perfetto Che al giorno d'oggi Utilizzano i veri Piercer Un bellissimo punch Per chi non lo sapesse Vi metto magari una foto qua Quello strumento Così carino Che sembra una penna Tanto carino Quanto doloroso Che vi va a bucare la pelle E come se fosse una penna Che ne so Come ve lo spiego Ok Come se fosse una penna Così Solo che qua Anziché avere la punta Ha un buco Che ti va a scavare la pelle Quindi Se si toglie la Ecco Così Come se avesse questo buchino qua Che ti va a scavare la pelle Quindi quando tu lo vuoi posizionare Che ne so in questo caso Magari sul braccio Per farvelo vedere meglio E scavi in questa maniera Così Ti va poi a levare Il pezzettino di pelle E così Poi si può eventualmente Infilare il dermalo A fare altri lavori Come in questo esempio Sul face Quindi Cos'è successo Con il punch Mi ha fatto I due bucherellini Prima Mi ha fatto tutto il lavoro A destra Mi ricordo perfettamente E poi tutto il lavoro A sinistra Ovviamente ha utilizzato Anche due punch diversi Uno per il lavoro A destra L'altro per la sinistra Quindi Cos'è successo Per il primo punch Mi ha fatto i due bucherellini È uscito una marea di sangue Non tanto A destra Ma a sinistra Sì È uscito abbastanza Anche perché me lo sentivo Proprio colare Però a me In realtà Non mi fa senso Al sangue E quindi È stato questo Il vero e proprio dolore Perché poi dopo C'è una seconda fase Prima di infilare il piercing Si prende un bel lago canola Che nel mio caso È stato Penso lo spessore 2.0 Quindi quello arancione Che è il successivo Di quello grigio Che si utilizza solitamente Nei piercing Quindi da 1.8 A 1.6 E quindi L'ha infilato Dal primo buco L'ha fatto passare sotto Fino al secondo buco Quello vi giuro Regà Zero Cioè non lo sentivo Nemmeno passare sotto pelle Idem Quando poi ha passato il piercing Che ovviamente Non è un piercing Semplice A 90 gradi Vi metto una foto qui Perché in realtà Ne ho uno dietro Ma non ho voglia Di andarla a prendere O magari ve lo prendo Così ve lo faccio vedere meglio Forse è meglio così Per intenderci Questa è una barretta A 45 gradi Ok 90 gradi Tenete conto Che anzi che rimanere Un po' più spilata così La rimane completamente dritta Quindi stanghetta Due barrette Quindi uscirebbe comunque davanti E questa è A flettatura interna Quindi andrebbero poi Avvitate le palline fuori E poi rimane Rimane Le due palline Rimane in primis brutto Come piercing Ma in secondo Anche comunque Non è appunto corretto Per quanto riguarda Appunto quelle questioni Di rigetto E quant'altro In questa maniera Lei è andata a infilare Una barretta piatta Quasi come se fosse Proprio la piattina del dermal Però appunto Più lunga Con sempre a 90 gradi Quindi con i due Pezzettini all'infuori Però con filettatura interna In questo caso È la pallina Che si va A incastrare A vitare Dentro il piercing E non viceversa Non so se riesco a farmi spiegare Perché per chi non conosce tanto bene Queste cose Difficile fargliele capire Per me invece Sembra più semplice Di quel che è Andato a infilare questo piercing Così Filettatura interna E in questa maniera Si possono avvitare Sia le palline classiche Perché in realtà Trovi anche Le palline da poter avvitare In questi tipi di filettatura Ma quelli che trovi Molto più facilmente Sono appunto I brillantini Tipo dei dermal Che in questo caso Io li ho messi Tutti brillantinati Così Colore classico Chiaro Perché a me piace così Però se tipo io Che ne so Domani decidessi Di voler metterli rosa L'ipotesi Svito la pallina Che forse Sui surface Viene un po' più facile Perché sui dermal Vi posso assicurare Che è impossibile Anche se in realtà Non ho ancora provato Perché non vorrei mai Perderne una E avviti tranquillamente L'altra Quindi non sono comunque Fissi E quindi è questo Quindi vi ho spiegato Sia come si procede A fare un giusto piercing Quindi se non volete Andare da Neki Comunque assicuratevi Che ci sia qualcun altro Degno Che sappia fare questo lavoro Ora so che sicuramente Mi troverò altri commenti Magari di Di piercer O di altre gioiellerie Di quelli classici Che fanno i piercing Con la pistola E dicono Che va benissimo Perché sono pulite Reptum 2017 forse Dove avevo fatto Un video vlog Dove vi spiegavo Se era meglio Fare i piercing Con la pistola Con l'ago canola Se non l'avete ancora visto Andatelo a vedere Mi raccomando Però Chiusa parentesi Quello rimane Un video a parte Anche perché Oddio Non ci voglio ritornare dentro A parlare di queste cose Perché ci Veramente Sarebbe Un video infinito Momentalmente In questa maniera Se si vuole i piercing Non i surface Non con il 45 gradi Non con il 90 gradi E nemmeno direttamente Con l'ago Prima il punch Poi l'ago E il 90 gradi Fine Ok? Ci tengo davvero Perché Una mia amica Che ha fatto Sempre un piercing Qua chi va Da un altro piercer Che ha fatto il surface Dietro al collo Gli ha fatto il rigetto E vi posso assicurare Che non sono molto carine Le cicatrici da rigetto E non è proprio Neanche molto carino Da vedere Nel momento in cui Inizia a fare il rigetto Vi posso assicurare Che è veramente uno schifo E penso che nessuno Vorrebbe una cosa del genere Sulla propria pelle Quindi io questo Lo dico per voi Poi Ognuno è libero Di fare ciò che vuole Ovviamente Come tipo io Ho fatto i miei piercing Molti dei miei piercing Mi sono fatto da solo in casa Ovviamente Ero consapevole Che andavo comunque A rischio di Ero il mio pericolo Fine Visto che c'è qualcuno In questo momento Che ve lo stai consigliando Per favore Non fate Allora Quindi il dolore mio Invece ve l'ho già detto Perché mi ha fatto male Appunto Quando è stato un momento Del punch Che ha fatto Bucrellino Mentre La guarigione Guarigione Devo dire che Il song È continuato a uscire Oddio Non immaginate Chissà quanto Che comunque Lo andavo a pulire Magari stia tenendo Le crosticine E quindi ricomincia A uscire di nuovo Un pochettino di sangue Però rimaneva sempre Lì attorno Un paio di giorni Quindi se dovesse Succidere anche voi Non sto andando Inzato Di tranquilli A me per un paio di giorni Ha fatto questo Problemino Possiamo dire Anche se Adesso non è un proprio Vero problema Perché è normale Sono stato bucato Da parte a parte Insomma Dolore nei giorni successivi Comunque Non ne ho avuto Se no Magari qualche fastidio Sai Magari se Per sbaglio ti tocchi Così È ovvio Che magari Un pochettino Ti fa male Tra virgolette Un'altra cosa Che posso consigliarvi A questo proposito Non indossate Magari I giorni stessi Per un po' di giorni Magari Delle salopette Con le bratelle O non indossate Magari Inzani Troppo pesanti Che magari Si vanno proprio A battere Lì contro Perché comunque Capite che Già magari Il corpo Non è abituato A questo piercing In questa zona Qui Se poi ci diamo Il proprio Ok Che siamo sicuri A fare un bel rigetto Insomma Quindi comunque Va trattato molto Con delicatezza I primi giorni Come l'ho pulito Io con Della soluzione Fisiologica In questo caso Io ho utilizzato Questa qui Quella che utilizza Delle lenti a contatto Anche E niente Voi comprate La soluzione Fisiologica Che è la migliore Anche se Questa qui Credo che Vada bene Non lo so Poi oddio Se c'è qualche Pierser Veramente qualificato Però O comunque La mia Pierser Sta guardando Questo video E vuole lasciare Qualche commento Utile Di cui Ovviamente Non lo so Perché Ripeto Come dico In tutti i miei video Non la qualifica In questo campo Allora Commentate pure Qua sotto Ma io credo Credo Mi sembra di aver sentito Che la soluzione Salina In questo caso Posta per le lenti Vada bene E specialmente Comunque Sia migliore Rispetto Che fare un sale Acqua in casa Se no Utilizzate il bialcol Anche Che è quello lì Verde Che non brucia Si chiama bialcol Poi verde O trasparente Dipende Quello verde Solitamente È l'isoform Ma forse È il bialcol Io è quello Che ho sentito Di più utilizzato Dai Pierser Pucciate un bel coton Fioc O un dischetto Di cotone Non quelli che lasciano I pelucchi Però quei cotoni Già compatti Tipo E lo passate Delicatamente Attorno Poi io mi aiuto Con uno spray Che ho comprato Da un Pierser Al mare E che ormai Ovviamente Mi si è svuotato C'era dentro La soluzione fisiologica E lo riempo con questo Mi aiuto a sfruttarlo In questa maniera Ha un getto Un po' più forte Ma comunque delicato Che farlo abbastanza vicino A me aiutava A far colare I dialecrossici Nel sacuetto In eccesso Spero di avervi Detto tutto In qualsiasi caso Commentino qua sotto Like Iscrizione al canale E Ma soprattutto Attivate la campanellina Per esservi aggiornati E così ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi